Prima in casa atipica per il Ligorna che si ritrova a Rapallo a causa dei lavori di rifacimento dello stadio L'inizio di partita è una vera e propria doccia fredda Al diciannovesimo la Caronnese va subito in gol con Sorrentino Bello il suo gesto tecnico ma a difesa del Ligorna poco attenta sugli sviluppi dell'azione Passano solo sei minuti e i padroni di casa si trovano già nello strapiombo La zuccata di Cosentino vale il gol dello 0-2 Al ventinovesimo ci prova Zunino ma Porro è attento e para in due tempi Inizia il secondo tempo ed arriva la possibile svolta Fallo di mano e calcio di rigore per i padroni di casa Sul dischetto si presenta Chiarabini che si fa ipnotizzare da Porro Che è super a salvare la sua porta con due interventi da grande numero uno Al cinquantottesimo la Pietra Tombale Un errore di Gallotti regala un pallone facile facile a Sorrentino Che sigla la sua doppietta personale e pone la parola fine all'incontro C'è spazio ancora per una bella azione del Ligorna ma l'orgia di gambe che ne deriva Conduce ad un nulla di fatto e porta alla seconda sconfitta consecutiva per i padroni di casa C'è spazio ancora per i padroni di casa C'è spazio ancora per i padroni di casa